Una giornata del campionato di serie C1 di calcio a Cisannita batte 2 a 1 i padroni di casa dell'Emme Gross Campobasso Futsal. Una gara davvero bella ed emozionante nel primo tempo le reti di Terriaca per il Sant'Elena che ha risposto al gol del vantaggio di Pappalardi. Nella ripresa ancora una volta Terriaca decide l'incontro nel finale davvero concitato, decisive le parate di Camarda. Nel racconto degli highlights montato da Andrea Fatica le emozioni della gara. Nel frattempo alza il pressing il Campobasso Futsal, De Tolis sfugge ai alenti, poi il pallone per Angiolillo che può calciare, anzi cerca un assist che diventa un contro assist di fatto per Campanella al centro per Pappalardi. E risponde Camarda con un grande intervento, davvero grande chiusura da parte di Camarda al diciassettesimo. Grande azione, qui ancora Angolo. Chissà che proprio da queste situazioni non possa arrivare il gol del vantaggio. All'indietro la sfera per Del Cioppo. Che rischia qualcosa del Cioppo, poi in qualche modo se ne va Pappalardi con una gran giocata Pappalardi. Ancora lui, Pappalardi, gran gol da parte di Pappalardi. Un paio di tripling e poi una punta all'angolino. E' questo il gol che porta in vantaggio l'Emegros Campobasso Futsal. Il gol di Pappalardi. Prova a salire il pressing del Sant'Elena. Brunetti, il taglio profondo con l'uscita di Camarda. Attenzione la porta è sguarnita. Brunetti, può andare alla conclusione. Brunetti, attenzione Camarda, sembra aver preso il pallone fuori aria. Non secondo il direttore di gara. Allora Terriaca, prova ad arrivare. Terriaca, il sinistro, il pareggio del Sant'Elena. Ma quante proteste. Il pareggio di Federico Terriaca. Bel gol del Sant'Elena. Ma davvero grandi proteste. Attenzione perché Del Cioppo ha protestato troppo con il direttore di gara. Arriva il cartellino giallo per il portiere. Ma questa è sicuramente un'azione da rivedere. Si chiude anche il primo tempo. Ricordiamo situazione di parità. Ancora Montanaro, condusione della sfera per Campanella. Campanella prova a liberare il destro. Scheggia il palo. Proprio Campanella. Con una bellissima conclusione. Angiolillo. Terriaca prova a saltare Brunetti. Terriaca prende velocità. L'assista al centro per De Tollis. Ancora De Tollis. Il pallone è buono. De Tollis. De Tollis. Pallo clamoroso. Che azione qui per il Sant'Elenad. Sempre dallo spunto di Terriaca. Ancora Pappalardi. Gli Alenti. Possesso continuate. Attenzione Terriaca. Ma Terriaca. Terriaca può portare avanti il Sant'Elenad. Terriaca lo spunto. Terriaca. Non fallisce. Il gol del 2 a 1. Federico Terriaca. Su questa azione di ripartenza. L'uomo più rappresentativo. Sicuramente il migliore in campo. Porta avanti il Sant'Elenad. Al quarto d'ora del secondo tempo. Gara che si può sbroccare in tutti i modi. Sia da una parte che dall'altra. Sia il Sant'Elenad potrebbe chiudere sul 3 a 1. Ma soprattutto la Fuzzala può rientrare in gara da un momento all'altro. Quando siamo al ventiduesimo. Otto alla fine. Salvo recupero. Probabilmente ci sarà una sostituzione in blocco. nella Fuzzala. Qui il tiro da parte di Cioccia. Camarda sbaglia l'intervento. Minuti finali davvero concitati. Campanella per Leonardo. Si fa vedere ancora Leonardo. Il pallone al centro. Montanaro ci mette un piede. Ancora Campanella. Campanella cerca un compagno libero. Libero. E il destro. Camarda. Super. Nella circostanza. Va davvero a blindare la porta. Al trentatresimo minuto. Ancora una volta Pappalardi. Non è finita perché c'è Montanaro. Ancora Leonardo. Il pallone al centro. La presa di Camarda. Che può calciare in porta. Camarda il tiro. E la traversa clamorosa. Esce dai palli Camarda. C'è Leonardo. Il lob. A Giolillo la tocca. Incredibile. Davvero quello che è successo in questo finale. Siamo davvero alle ultime battute. Ancora al centro. Da Ulerio. Per Montanaro. Può scaricare verso Campanella. Il tiro. E Camarda. Con il polso. Salva tutto. E finisce qui. Finisce qui. Una grande vittoria. Per il Sant'Elena. Sannita. Che spugna. Lo sturzo di Campobasso. Contro. Una ottima futsal. Due a uno. Il risultato finale. La doppietta di Federico Terriaca. Decide. L'incontro. L'incontro.